Una formula che ha avuto già successo nella prima applicazione, oggi viene modificata rispetto alle esigenze che hanno i tribunali stessi, si mette insieme un percorso formativo di grande qualità, abbiamo già visto in passato, opportunità che possono diventare, poi per un futuro anche opportunità di lavoro e soprattutto allo stesso tempo un sostegno alla macchina della giustizia che ottiene quindi anche il risorso umano in grado di lavorare meglio e poter fare di più. Quindi una collaborazione a 360 gradi tutto a favore del sistema marchigiano perché attraverso una giustizia che funziona, che gli strumenti per poter operare, imprese, cittadini, tutti quanti, otteniamo risposte importanti.